Luna. Indizi. Alcuni amici scrivono. Ma Dino, oltre a scrivere libri come i Terrisveglio, il secolare nuovo ordine del male, oltre ad aver pubblicato online il favoloso indice alfabetico con oltre 3000 voci, oltre ad aver smantellato la farsa dell'allunaggio, oltre a comporre la canzone le palle, perché non fai altre cose? Certo, come no! Ho una N in più rispetto a Dio! È una battuta, ovviamente. La messa in scena dell'allunaggio è solo uno dei grandi complotti e, visto che ci siamo, parliamo ancora della Luna. Oltre ad aver letto sui libri del regime, avete mai analizzato con la mente aperta alcuni dettagli importanti? La Luna ha un diametro di 3474 chilometri e la Terra di 12742, mentre sui siti americani la Luna ha un diametro di 3476 chilometri e la Terra di 12756 chilometri. Interessante, vero? Servirebbero comunque 3,7 lune per ottenere il diametro della Terra. La distanza media della Luna dalla Terra è di 384.000 chilometri, una distanza pari a quasi 30 volte il diametro della Terra. Il diametro della Luna è circa 400 volte più piccolo di quello del Sole, ma si trova 400 volte più vicina rispetto al Sole, il che significa che durante un'eclisse si adatterebbe perfettamente per oscurare con la sua ombra la Terra con un'area pari al suo diametro. Non è così. La sua ombra non è più larga di poco più di un centinaio di chilometri. Ci fanno credere che a causa dell'ombra e penombra non succede nel caso dell'eclisse di Luna. Cliccate su Eclisse di Luna, ombra e penombra su indice alfabetico e scoprite qualcosa di più che non sapete. E la parte oscura della Luna è la parte che non possiamo vedere, mentre tutto quello che ci mostrano sono solo immagini costruite. Ma qualche spiegazione della magica rotazione che combacia con la rotazione della Terra per tenere fissa sempre la stessa faccia? Voglio dire masse diverse, orbite diverse, rotazione sul proprio asse da ovest verso est, rivoluzione attorno alla Terra, traslazione insieme alla Terra e attorno al Sole. E da millenni non ha mai cambiato la sua faccia? E i crateri? Impatti sempre a 90 gradi. È brillante dalla Terra, ma nelle immagini degli astro non auti è grigia e cinerea. Vogliamo parlare dei presidenti americani? Da Jimmy Carter hanno detto che sarebbero tornati sulla Luna, ma nessuno ha mai tentato di posare il piede nuovamente dal 1972. E se anche l'America ha fallito o nessuna delle altre agenzie spaziali straniere c'è riuscita? Che ne è stato di tutti i progetti da allora? Ovvio che tutte le agenzie spaziali sono colluse. Su un dice alfabetico trovate tutto il materiale necessario per analizzare tutte queste prese per i fondelli, dove dal presunto primo sbarco sulla Luna hanno imbambolato i nonni, i padri e i loro amici che credono ancora in questo scherzo di cattivo gusto. Cercate Luna ed Ecclissi e godetevi le informazioni non di regime. È solo un ulteriore inganno, piccoli scolaretti che iniziate un nuovo anno scolastico, con l'impossibilità di giocare, pronti a subire la punizione che non meritate di stare seduti davanti ad una scrivania ore ed ore. Pensate che dovete chiedere il permesso di fare la pipì, mentre i cani la fanno liberamente ovunque per strada, sui vasi di fiori, sulle gomme delle auto senza dover chiedere niente a nessuno. La scuola obbligatoria è stata istituita per farvi iniettare nozioni che i vostri insegnanti sono costretti a farvi studiare, perché devono seguire il programma. Programma deriva da programmazione per non perdere il loro posto di lavoro. Vi fanno imparare nozioni dai libri che riportano solo teorie, ma nulla della vera ricchezza che solo la natura può regalarvi per farvi crescere in armonia ed imparare a vivere come veri esseri umani, unici, ognuno diverso dall'altro. Cercate le tre voci scuola ed iniziate ad aprire gli occhi e la mente. La terra non è un globo, fate le vostre libere ricerche, sta a voi coltivare questo seme di libertà. Un saluto e grazie di aver guardato fino in fondo. Dino